...ad ascoltarmi per quasi un'ora che non è servito. Eppure tutto quello che avete sentito e visto qui potrebbe non essere vero. Anzi, non lo è affatto, almeno non nel modo in cui io l'ho ricostruito per voi. Corticosamente, ovunque ci fosse della musica, stringendo, sentivamo il cuore battito ogni volta che ci spionavano. Ma la solita trovata è il silennesimo trucco per rendere più interessante l'aggancio, il gusto del paradosso, una provocazione forse. No, questa volta vi sbagliate, proprio così non ho assolutamente niente da dire. E allora perché questa messa in scena? Perché creare qualcosa che ha tutte le caratteristiche di uno spettacolo teatrale? Se noi ombre vi abbiamo annoiato, si può presto rimediare. Voi soltanto dormivate e noi altri sognavate. E se tenue era la trama, come in un sogno appunto, è vana. Oh no, non vogliateci umiliare, ci possiamo riprovare. E quanto è vero che mi chiamo Puck, a tutti buonanotte, dico intanto. Finito nello spettacolo, è l'incanto. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.